Insomma, ero a questa festa anni 40-50 e sento questa melodia e poi niente, non riesco a togliermela dalla testa. Definirei Mr. Boogie Man un personaggio fiero, spavaldo, sfacciato, unistrione. Quella vocina che ti direbbe sempre fallo, che cosa stai aspettando? Prima eri più sgargiante. Mr. Boogie Man è un pezzo geniale, mette positività e allegria. Vi consiglio di andare a vedere il video perché è molto bello. E poi c'è Polpastrello, scrive, canta, balla, arrangia, suona, che dire, un grande talento. La mia intenzione è quella di distinguermi dalla massa. L'ispirazione principale è lo swing, il Dixieland, il Ragtime, ma anche l'opera lirica come magari può essere il Barbiere di Siviglia di Rossini e il Rigoletto di Verdi. Dovevo riassumere in una frase un concetto semplice ma efficace, che rimanesse ovviamente nella testa di chi ascolta. Una frase che potesse far capire che abbiamo tutti bisogno di perderci per poi ritrovarci. Questa sera sono Mr. Boogie Man. Perfetto. Boom! Questa sera, per una sera, sarò quella parte di me che non ha mai avuto il coraggio di mostrarsi. Polpastrello affronta spesso nelle sue canzoni, nei suoi testi, il tema della precarietà giovanile. E lo fa anche questa volta con un singolo e con un video molto particolari, in una veste leggermente più diversa rispetto al solito. Consiglio a tutti di andare ad ascoltare il testo, coglierne i significati anche più nascosti e andare a vedere il video, che è interamente girato a 360 gradi e rappresenta sicuramente una particolarità inedita per quanto riguarda il mondo della videografia italiana. Ho voluto ripercorrere delle esperienze personali per far capire il concetto che non bisogna assolutamente fermarsi, non bisogna non credere nelle proprie idee, nei propri sogni, solo perché magari qualcuno ci condiziona, ci dice che non va bene, che non è giusto. Insomma, ci sono questi tre personaggi, c'è l'astronauta, Mr. Boogeyman e tu, in mezzo, che non sei né disposto a farti influenzare, ma tantomeno a essere spreggevole con tutti. Mr. Boogeyman è un brano sicuramente esilarante, ma allo stesso tempo anche introspettivo e ricco di contenuti. Ma chi sta dietro al personaggio di Mr. Boogeyman? Dietro al personaggio di Mr. Boogeyman ci sta il signor Paul Pastrello, un artista che da quando è iniziato a collaborare con noi ha avuto un margine di crescita sicuramente incredibile. È arrivato come un artista, ma ad oggi è un artista con la A maiuscola, quindi in bocca al lupo per tutto, Paul, e continueremo a spaccare assieme. Il video è pazzesco, un pallone gonfiato sotto casa Ferragnez che va in giro con il suo monopattino elettrico. E poi a una certa, diventa Mr. Boogeyman. Max Salvato è un genio assoluto, un'idea incredibile e un montaggio strepitoso. Questo essere rinchiuso in se stesso che finalmente ritrova la sua controparte e diventa il re della città. Ciao, io sono Max Salvato e sono quella persona che è stata dietro alla telecamera per tutto quanto il video di Paul Pastrello. Abbiamo girato Mr. Boogeyman a Milano un pomeriggio, un disgraziato pomeriggio perché si moriva di caldo, tremendamente. Eravamo a pranzo a mangiare sushi e Simone mi fa Comunque Max, io voglio fare un video che abbia due narrazioni, abbia due tempi. Voglio che un tempo si sviluppi vestito da Mr. Boogeyman e un tempo vestito da astronauta. Allora abbiamo preso un foglio di carta e abbiamo messo giù una sorta di linea temporale che arrivato ad un certo punto si doveva completamente doveva completamente tornare indietro per poi sviluppare la stessa identica storia ma vestito da Mr. Boogeyman. Quindi la prima parte dei video l'abbiamo studiata con il vestito da astronauta che partisse in una location prestabilita. All'inizio volevamo partire da tipo esattamente dove abbiamo parcheggiato le auto ma alla fine abbiamo optato per partire da City Life e l'idea poi delle location si è sviluppata in base allo storyline siamo partiti da City Life abbiamo registrato in City Life iniziando con la Sony che sto usando adesso poi però ho pensato che fosse più carino e interessante spostare ad una telecamera che desse la possibilità di stravolgere le regole delle inquadrature stravolgere in generale tutto quanto quello che tutti quanti sono abituati a conoscere. Abbiamo iniziato abbiamo sviluppato il video in circa 4-5 ore è stato figo e ci siamo divertiti un fracco è stato wow è una canzone che sta piacendo e mi fa super piacere perché Simone se lo merita tutto e mi fa piacere che vi sia piaciuto anche il video. L'idea dell'astronauta è venuta fuori così pensando a tutte quelle volte che magari ho dovuto indossare una corazza un'armatura per difendermi dal giudizio altrui sentendomi così alienato sentendomi consapevole dentro ma di un altro mondo fuori. Fratello che stile è scritto e vinile Cioè? Che dice? Uè Polpastrello Mr. Boogie Man ma stai parlando di me questo pezzo? Stai parlando con me Questa sera sono Mr. Boogie Man davvero 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 nessuno è più figo di me io sono il re di questa città io sono il re di questa città tu stai parlando di me a Polpastrello gran pezzo bravo numero uno Mr. Boogie Man sono anch'io un po' Mr. Boogie Man però vero? Eh? Appena uscito il video alcuni dei miei amici mi hanno detto ma Pol ma sei pazzo? Ma sei fuori? La mia risposta è stata sì era una mia intenzione e anche un bisogno perché le cose quelle banali adesso quelle normali non vanno più Crea dipendenza tanta dipendenza non l'ascoltate eh davvero 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 Mr. Boogie Man cioè secondo il mio punto di vista è una genialata perché è riuscito a mettere insieme la musicalità quindi diciamo il brano più orecchiabile ma insieme anche all'ironia che è il testo quindi questo mix insieme ha creato un pezzo secondo il mio punto di vista formidabile quindi assolutamente ve lo consiglio di ascoltare questo pezzo ma ingellare tutti i due pezzi perché Pol pastrello non merude mai Il linguaggio che sono riuscito a sviluppare che ho studiato lo considero un po' ai suoi inizi le parole troncate sono una forma di comunicazione di scrittura che permette all'ascoltatore di completare la parte mancante della parola in automatico il cervello neanche ci si mette lo fa da solo completa da solo le parole volevo fare il doppiato ma non avevo la vo volevo fare un po' di viaggi ma ho trovato la vo davvero 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 ho studiato ma i soldi però non li vedo tanto so ancora con mamma e papà che sono contenti che vado a ballare che vita di me che vita del ca la vita finisce sul culo si sa pensavo che per la fortuna dovessi partire ad andare sulla luna fratello che stile vestito e vinile quando si scrive una canzone bisogna essere consapevoli che si ha una grossa responsabilità che le cose bisogna dirle in maniera corretta a volte però rischiando molto caro Polpastrello sono molto contento di questo Mr. Boogie Man particolare strano rarefatto accattivante molto Polpastrello complimenti mi piacerebbe molto che Mr. Boogie Man avesse un ottimo riscontro un ottimo successo perché in un mercato così extrasaturo di tutto le cose nuove e pazze trovano sempre il loro posto rompiamo i programmi per una notizia sconvolgente Polpastrello ha tirato fuori un nuovo simbolo un singolo sensazionale Mr. Boogie Man che dovete andare ad ascoltare Polpastrello è un grande artista un grande cantante un grande ballerino e sì mi ha pagato per dire tutto ciò ok invece questo lo dico io gratis Simone è un grande artista davvero e voglio fargli complimenti per ogni successo passato presente e futuro sicuramente e la sua qualità che apprezzo più di tutti come artista e sicuramente se la porta dietro anche come persona è la sua testardaggine nelle cose si mette in testa un progetto non gliene frega nulla se va di moda o no lo porta a termine e puntualmente porta un'ondata d'aria fresca nell'arte e questo è molto molto bello questa sera sono mister boogie man davvero 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 nessuno è più figo di me questa quella per me sono uguale lasciami in par che c'ho da fare io sono il re di questa città della città della città che c'ho da fare che c'ho da fare